No, io stavo pensando alla cultura, la cultura, all'arte, la letteratura, la poesia, la pittura. Che cosa sarebbero le nostre vite se noi non potessimo sottrarci per un po' alla natura matrigna e rinascere dentro le parole dei poeti, i loro versi, un romanzo, un quadro, un'immagine. Però, però è anche vero che certe volte, certe volte, insomma, ci facciamo due palle così. Mi piace Alan Sorrenti, va bene? Mi piace l'Alan Sorrenti. Chi mette l'Alegria, che va bene verso dei poeti, la cultura, però ogni tanto un po' di ritmo.